Ciao, ciao a tutti, mi chiamo Aika, ho 26 anni e ho la passione per la pasticceria. Cosa direi? Io spero che un giorno diventerò una brava pasticcera come lo chef. Spero di realizzare il mio sogno. Allora, vorrei dire del corso. Il corso, le lezioni sono organizzate benissimo, mi è piaciuta molto. Siccome io sono straniera, alcune cose a volte sono difficili di capire, però le lezioni io riesco a capire tutto, praticamente. Certo che non lo faccio tutto insieme in una volta. Ho provato già di fare un dolce, diciamo che è uscito abbastanza bene. Cosa direi a tutti? Io vorrei consigliare a tutti di partecipare a questi corsi, di fare tutto. Perché se voi avete la passione per la pasticceria, come me, direi che bisogna fare tutto. Imparerai di fare tutte le cose. Vorrei ringraziarti lo chef, che lo chef è molto bravo, mi è piaciuto molto, come spiega. E niente altro. Grazie. Grazie a tutti.